Il Napoli domina il Torino e vince 4-0 a Torino, rimanendo in testa la classifica con 21 punti di vantaggio sul secondo posto. Il giocatore nigeriano Victor Osimen ha parlato ai microfoni di Dazon dopo la partita e ha espresso gratitudine ai tifosi del Napoli per il supporto entusiasta ricevuto durante la partita. L'attaccante dell'1-2 ha detto di voler dedicare la vittoria ai tifosi del Napoli, che l'aspettavano da anni. Il giocatore ha anche detto di aver visto allo stadio un giovane tifoso con i capelli tinti di blu, che si abbinavano al bomber della squadra, e intendeva fare una foto con lui. L'entusiasmo dei fan è stato evidente durante tutto il gioco, dagli adorabili cani con il dentifricio simile alla pelliccia di Osimen ai dolci dolcetti e alle maschere. Dopo il fischio finale, i giocatori del Napoli sono andati a salutare i loro tifosi nel settore ospiti, che li hanno accolti con applausi e cori. La vittoria del Napoli sul Torino è solo una delle tante emozioni che la squadra ha regalato in questa incredibile stagione, che continua a stupire sotto Luciano Spalletti. E tu tifoso, segui da vicino l'incredibile stagione del Napoli? Qual è il suo giudizio sulla prestazione della squadra guidata da Luciano Spalletti? Lascia la tua opinione nei commenti e iscriviti per ricevere maggiori informazioni.